buttala dove vuoi dai uguale vieni Grazie a tutti. Siamo in strada quasi. Grazie a tutti. Qua attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La miglia è quasi piena, fatta prima. Ho fatto un litro e mezzo di questa. Figaro. Ho partito da monte. Ah, si è partito da giù. Non da giù, da su. Ah, da su? No, ma queste bevono un cazzo. Queste se non usi il manettone, non bevono niente. No, non c'è. No, non c'è. No, non c'è. No, non c'è. Vediamo dove arriviamo. Bravo Mirko! Il bagno è il bagno. Bisogna cercare di non farlo il bagno qui. Guarda il problema. Cazzo, il vito l'anno scorso è caduto dentro qua e meno male che è caduto prima. No, tre anni fa è caduto dentro lì e il cieco un'altra volta è caduto qua. Sì, il cieco mi ricordo. È rotolato giù fino lì sotto, cazzo. Il cieco è voluto poche volte e mi ha fatto di quelle torne memorabili. Che c'è questo? Cazzo, devo riuscire a ritornare? No, dentro là figa. Ah, là nella pineta figa, l'ho fatto un volo, porco cane. Marco, qua bisogna stare attenti, quindi piuttosto molli la moto e ci andiamo a piedi. Non fare cazzate, no, qua è brutto, cioè sia il ponticello sia poi scendere anche di là. Se ti scivola giù va giù dall'altra parte. No, lui è come un ragno, però se non c'è spazio per mettere i piedi sei fregato. Ma tu non sai andare a scendere sempre fuori? Oh, impressione, io non so come cazzo. No, tante volte c'è dentro la quarta o cosa, non è non pensare, la moto è accesa. Non è che non... Oh, c'ha le palle qui al manubrio. Figaro, oh, arriva da per tu, non cade mai, cazzo. Io non so come cazzo fa. Cade più con questa, guarda, di prima... Due tempi. Beta ma due tempi. Vai sul canale circa Gargamella. E poi qui, in Indonesia di là dove li vedono tutti cazzo avevano fatto una statua della madonna. È un figo perché cazzo ce l'ha su tutti lui cazzo. I gesti del mago sono i gesti del mago. L'hai vuotata? Ma è piena? E allora. Il mago fa tutte le sue magie. Minchia, è sempre più profondo. È sempre più profondo. Grazie.